E' sperata di chi con te Sono il coro e l'orchestra giovanile Città di Breganze degli allievi della Scuola Media Laverda a dare spettacolo per la primavera. In totale quasi 300 ragazzi con altre classi, 8 in totale, tutti impegnati, chi a recitare, chi a ballare, chi a leggere monologhi per una festa che attrae i genitori, ma anche l'intera comunità di Breganze. Tema di quest'anno la sostenibilità ambientale, ma anche la pace, con manufatti usciti da un progetto di integrazione a scuola. Due cartelloni sulla natura malata, ma anche sul mondo mezzo sano e mezzo malato. Metafora che stamattina, alle prove generali, è stata messa ben in evidenza. Quest'idea è nata appunto per salvaguardare il nostro pianeta, quindi si cerca di esaltare appunto con queste canzoni il nostro pianeta, il benessere del pianeta, quindi si va a toccare temi, quindi di solidarietà, ma non solidarietà solo tra noi stessi, ma anche con la terra. Qual è la difficoltà maggiore di organizzare una cosa così? Io lavoro in teatro, quindi ho abbastanza dimestichezza con i grandi numeri, ma avere questi grandi numeri con 120 coristi, 30 orchestrali e doverli gestire, anche perché non sono professionisti, sono studenti con la passione della musica, ma sono pur sempre studenti, quindi bisogna gestirli dall'inizio alla fine, quindi la maggior difficoltà comunque è quella.